vuoi presentare cosa fai alla vostra scuola parla parlarci un po di te delle tue attività allora io mi occupo del corso di animazione del centro sperimentale di cinematografia il centro come forse noto è la scuola di cinema italiana a sede a roma e dagli anni 30 quindi a roma c'è la scuola vera il cinema vero nel 2001 il centro ha concluso una convenzione con la regione piemonte per attivare un corso dedicato al cinema d'animazione dico cinema d'animazione non solo animazione perché ha un suo peso questa ambizione di insegnare a fare i film d'animazione non solo ammesso che sia limitante l'animazione insomma il movimento dei personaggi che è una parte ovviamente a roma c'era un corso d'animazione tenuto da giulio gianini negli anni 80 e 90 che aveva un carattere molto autoriale di laboratorio straordinario di creazione di cortometraggio che corrispondeva un po' alle esigenze del mercato della produzione dell'animazione italiana che erano molto limitate e quindi giustamente si dedicava alla formazione di pochi studenti molto talentuosi e votati soprattutto al corto poi il corso fu sospeso mi sembra sì per un paio d'anni il nostro progetto invece è nato con un nuovo corso dell'animazione italiana e cioè una rinascita se non proprio una nascita di una produzione più commerciale più industriale perché la rai dagli anni 90 così come molte televisioni europee si sono trovate a produrre animazione non soltanto a comprarla e quindi si è espressa l'esigenza di formare artisti talenti tecnici per questa diciamo industria nascente quindi questo per dire che il nostro il nostro corso che dura tre anni ha soprattutto una missione diciamo di formazione professionale di avvicinamento e di fornire degli strumenti per entrare a lavorare in un team che produce per esempio serie televisive o lungometraggio detto questo la passione personale ma anche l'opportunità di coltivare parallelamente anche un approccio più personale più individuale più vicino insomma alle dinamiche alle possibilità del cortometraggio è rimasta quindi anche per un motivo che in italia non ci sono tante altre opportunità per dedicarsi al film animazione per tre anni a tempo pieno e diciamo in condizioni di scuola più o meno pubblica quindi anche con un investimento che è sempre grande perché si tratta di insomma di studiare tre anni e di spostarsi però insomma diciamo che ancora è un corso credo accessibile ai più puoi dirci qualche qualche numero quanti studenti accogliete c'è una selezione per quelli che magari possono essere interessati e che vorrebbero sapere un po' di più per quel che riguarda le modalità di ingresso le tipologie di corsi che vengono offerti tutti questi dettagli dunque sono tre anni il corso che viene offerto è un unico corso cioè tutti sono 16 studenti anzi quest'anno ne abbiamo ammessi 18 per la verità però normalmente sono 16 è un corso che offre diciamo un unico percorso per tutti con l'ambizione certo è una grande specializzazione ma è anche vero che in realtà è un corso di base nel senso che noi abbiamo studenti che non ha che non necessariamente hanno già esperienza di animazione diciamo che un requisito importante anche se non assolutamente determinante è una capacità di disegno ma ci sono tante o alcune buone ottime eccezioni il corso è uguale per tutti tutti perché perché in piccolo riproduciamo tutte le fasi di produzione di un film quindi si va dalla scrittura all'edizione il corso è prettamente pratico anche perché l'animazione lenta richiede molto tempo quindi necessariamente l'attività è basata sulla realizzazione di esercizi e poi di piccoli progetti e poi di progetti un pochino più grandi nel senso che al terzo anno i ragazzi producono un cortometraggio che insomma è un'impresa grossa e un cortometraggio che va dai 3 4 8 minuti quindi qualcosa di considerevole per l'animazione sì c'è una selezione ovviamente sono 16 all'anno siamo credo appunto un'opportunità in italia abbastanza rara quindi riceviamo parecchie domande non facciamo molta promozione molta pubblicità il passaparola funziona bene ed è importante per noi perché effettivamente chi viene da noi deve proprio avere voglia di fare questa cosa la selezione sì è una selezione mirata a testare la motivazione prima di tutto perché l'animazione è strana anche perché poi molti dicono certo mi è piaciuta sempre fin da piccolo ma pensa che è strano non basta ovviamente chi non ha amato l'animazione da piccolo sì le capacità di disegno ma soprattutto è anche questa è una sfida perché poi il disegno l'amore la passione per la creazione dell'immagine fissa non sempre corrispondono invece quello che in realtà serve cioè la la capacità la predisposizione al racconto per immagini i ragazzi devono mandarci un portfoglio e noi facciamo una scrematura molto molto si dice relativa dei portfogli perché vogliamo ovviamente poter parlare con le persone ci sono dei colloqui a torino a seguito di questi colloqui di presentazione facciamo una prima selezione di 20 30 ragazzi che restano con noi una settimana di corso propedeutico così detto durante il quale effettivamente hanno la possibilità loro di capire anche perché avviene in contemporanea i corsi quindi incontrano gli studenti sanno i pro e contro noi facciamo dei corsi propedeutici dei test pratici quindi alla fine di questa settimana selezioniamo i 16 fortunati o meno insomma fortunati anche perché molti di loro poi la quasi totalità se non ricordo male poi si inserisce subito nel mondo del lavoro in una certa qual mariera sì sì si inserisce in un mondo di lavoro molto difficile fatto di lavoro freelance fatto di grande passione grande determinazione a cercarsi il lavoro a presentarlo a muoversi a lavorare in giro per l'europa non necessariamente perché in italia cioè non è una questione solo di qui non c'è lavoro bisogna andare fuori ma proprio che le produzioni spesso soprattutto quelle diciamo di qualità di lungometraggio per esempio sono sempre coproduzioni internazionali quindi abbastanza normale che si vada un anno a londra un anno a stuttgart piuttosto che a parigi e poi si torni quindi sì però lavorano abbastanza so che ci sono anche i tuoi studenti stasera qui con noi un commento su questa loro partecipazione sì c'è silvia capitta che presenta il suo corto di diploma un commento sono film di diploma questo per me è molto importante normalmente facciamo realizzare dei corti in gruppo in piccoli gruppi poiché il percorso che loro fanno è un percorso comune non ci sono delle specializzazioni succede quasi sempre che all'interno del gruppo ci si suddivida i ruoli no storyboard l'animazione aspetti più tecnici il compositing succede anche quasi sempre che la regia le scelte siano condivise questo da un lato credo possa anche frustrare certe personalità forti e più autoriali e dall'altro e a volte magari limiti anche le possibilità del film dal punto di vista pedagogico è credo un passo importante per la consapevolezza della difficoltà delle scelte e della importanza del lavoro in team che a parole sempre molto facile no io sono nato per lavorare in gruppo nei fatti richiede una buona esperienza una notevole messa a fuoco di quali sono le reali capacità caratteri per poter lavorare in team in un lavoro così creativo come 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 è difficile bilanciare le competenze le ambizioni quindi credo che da questo punto di vista sia utile il film di silvia e delle sue tre coautrici è un film in 3d è un film molto tecnologico quindi computer grafica tridimensionale quindi che ha affrontato anche credo con molto interesse da parte delle ragazze un aspetto tecnico che però vuole risolversi da un punto di vista visivo molto pittorico quindi una sfida che sicuramente le ha coinvolte e penso che sia anche riuscita